A tutti un buon mercoledì. Oggi vedete uno sfondo un po' insolito rispetto agli altri video, sono a casa dei miei genitori. Ci mettiamo in ascolto del Vangelo che la liturgia ci propone in questo mercoledì. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse, ti rendo l'ode Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate i piccoli. Sì o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. Brano molto breve ma molto molto denso, c'è proprio un condensato delle parole di Gesù ma anche di quello che hanno capito di Gesù i primi cristiani. Proviamo a dire tre cose su questo testo che abbiamo ascoltato. La prima, Gesù rende l'ode al Padre perché? Perché ha fatto bene. Rende l'ode al Padre perché vede realizzarsi il suo progetto. Ringrazia Dio perché Dio fa bene ogni cosa ed è contento ed è felice che si sta compiendo quanto Dio desidera, quanto Dio ha deciso nella sua benevolenza. Molto interessante questa cosa, è proprio uno spaccato no, questo nella preghiera di Gesù. Non capita molto spesso che il Vangelo ci dica i sentimenti, i pensieri di Gesù quando si rivolge al Padre. Questo è abbastanza un unicum no all'interno del Vangelo e questa cosa interessantissima ci mostra che quando Gesù si rivolge al Padre è contento perché vede che Dio nella sua benevolenza sta compiendo la sua volontà. Non so per voi ma per me viene una grande provocazione no al pensiero. Io per cosa noto Dio? Per cosa lo prego? Per cosa lo ringrazio? E a volte quando mi confronto con questo testo sento la mia preghiera un po' narcisista no? Ma è cosa chiedo a Dio? Chiedo cose che servano per me, chiedo cose che servano per l'umanità, gli dico io quello che dovrebbe fare. Invece che interessante no questa cosa che ci mostra il Signore. Quando Gesù si rivolge al Padre, si rivolge al Padre lieto perché sa che nella storia si sta compiendo la sua volontà. Una seconda osservazione vorrei fare. Gesù loda il Padre perché si rivela ai piccoli. Ma chi sono questi piccoli? Cioè Dio ci vuole tutti umili, sottomessi, non azzardarti a sognare qualcosa di grande nella tua vita. No, non è questa la questione. Però il piccolo è colui che è disposto ad accogliere. Non è il grande che è tendenzialmente colui che pensa di dover avere un atteggiamento attivo. È il piccolo. E il piccolo mette la mano nella mano del genitore per chiedere di essere accompagnato. Sa che ha bisogno. Perché Gesù loda Dio? Perché Dio si è fatto accessibile. Dio non è la scalata al vertice della sapienza dell'umanità. Gesù loda il Padre perché il Padre, per chi è disposto ad accogliere, si rende disponibile. Gesù non sta lodando un Dio che ci vuole piccoli e sottomessi, ma sta lodando perché il Padre si fa conoscere. Devi volerlo, devi volerlo accogliere. Se tu ti fai grande e pensi di non avere bisogno di un Dio che si fa conoscere, beh, hai bloccato in partenza la sua rivelazione. Ma Gesù loda Dio perché Dio è contento di farsi conoscere perché è disposto ad accoglierlo. Guardate che è una gran bella notizia nella storia quanta umanità si è messa alla ricerca di Dio. Gesù loda il Padre perché vede che il Padre invece desidera a lui farsi conoscere, desidera a lui incontrare i propri figli, desidera a lui nutrire, sostenere coloro che accettano di accoglierlo. Ecco, questa è la grande notizia, per cui Gesù loda il Padre nel testo che abbiamo ascoltato oggi. Un'ultima riflessione nella parte finale del testo di oggi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. Questa frase ci dicono gli esperti del Vangelo che con ogni probabilità riflette anche la riflessione della comunità, della comunità primitiva di fronte al mistero di Gesù e c'è dentro tutta la meraviglia dei piccoli, della chiesa che ha accolto il messaggio del Padre si è fatta piccola e dicono noi in Gesù abbiamo incontrato tutto di Dio, siamo contenti di Gesù perché chi conosce il figlio conosce il padre, in Gesù c'è dentro tutto il mistero di Dio. Questa è proprio la confessione di fede dei piccoli, cioè della prima chiesa che dice abbiamo accolto questo messaggio e abbiamo visto con stupore e con meraviglia che Dio si è proprio fatto conoscere nel figlio, che grazie al figlio si è fatto conoscere. È una pagina da contemplare quella del Vangelo di oggi, è la pagina in cui vediamo la gioia di Gesù, la gioia di Gesù del padre che si manifesta e la gioia della chiesa che in Gesù ha visto tutto il mistero di Dio. Se volete proprio la pagina per eccellenza della gioia cristiana. Perché siamo cristiani? Perché siamo contenti di Dio e perché siamo contenti del modo con cui Dio si è fatto conoscere all'umanità. C'è dentro tutto e questo è il motivo di sfondo per cui noi ci riconosciamo cristiani e questo è il motivo di fondo per cui la chiesa è contenta di riconoscersi piccola. Siamo coloro che godono della volontà di Dio di farsi conoscere e in Gesù abbiamo scoperto tutto il mistero di Dio. Non c'è più nulla da aggiungere. Se tu aggiungi qualcosa al Dio che ha rivelato Gesù non stai incontrando Dio, ti stai facendo grande, non stai accogliendo, stai tu imponendo a Dio di essere qualcosa che lui non è. Ecco mi verrebbe da dire così, la pagina che la liturgia ci regala in questo mercoledì è proprio una pagina da contemplare e da gioire. Noi siamo i destinatari della rivelazione di Dio, Dio vuole rivelarsi, ci ha detto tutto in Gesù e continua la sua opera nel mondo. Questo deve essere il motivo di fondo che sostiene la nostra gioia nell'incontrare il Signore, nel pregare, nel vivere la nostra vita quotidiana. Grazie per aver seguito questo momento di ascolto della parola e auguro a tutti di cuore un buon mercoledì.